su cosa lasciate la ricerca? io sulle piramidi, io sulla tigre d'Australia ma la tigre non vive in Australia, vive in Asia vi dico io dove è la tigre, la tigre è allo zoo di Pistoia e c'è anche il leone, l'ippopotamo, la giraffa gli avvoltoi, i vampiri, i sergoni è vero, allo zoo di Pistoia la tigre c'è assieme agli esemplari più belli dei cinque continenti venite allo zoo di Pistoia io domenica ci ritorno